L'onorevole Cimbro ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Sì, grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Indubbiamente nella risposta si evince che finalmente per la prima volta iniziamo a ragionare attraverso un approccio globale rispetto alla questione delle vasche di laminazione del Seveso. Riteniamo però che la tempistica che è stata qui descritta non corrisponda a quella che è la volontà anche degli enti locali coinvolti da questa infrastruttura importante che avrà un impatto devastante sul territorio. Noi siamo ben consapevoli che questa vasca di laminazione, quella di Senago appunto serve perché l'importante evento di Expo 2015 non può essere ostaggio di una situazione che noi consideriamo assolutamente problematica. E' anche vero però che gli enti locali in questi anni hanno tentato di spiegare le ragioni anche di un intervento che fin da subito debba essere globale e che deve interessare anche gli altri comuni. Questo lo diciamo a fronte anche di uno studio che è stato fatto e che ha dimostrato che la realizzazione della sola vasca di laminazione di Senago non è risolutiva del problema. Ora, in premessa, ritengo che sia intanto assolutamente positivo il fatto che oggi si sia qui in quest'Aula a parlare e a discutere delle vasche di laminazione per contenere le sondazioni del Seveso. E' un tema, peraltro, che è stato affrontato da tempo, non solo dalle istituzioni locali ma anche partiti politici, cittadini, comitati, come lei, sottosegretario, ha ricordato. Non è un problema di oggi. Ci sono degli studi che dimostrano che le sondazioni del Seveso risalgono all'epoca romana, cioè abbiamo testimonianze anche dall'epoca romana. E questo ci permette di fare una riflessione più ampia anche rispetto all'approccio che bisognerebbe avere su tematiche così importanti. Cioè non possiamo tutte le volte intervenire solo ed esclusivamente quando c'è un'emergenza. È positivo anche il fatto che questo tema sia stato preso in carico dal Governo, in particolare, come ricordava il sottosegretario, dalla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, all'interno di un percorso più ampio che possa invertire appunto la tendenza di interventi di emergenza ai quali purtroppo abbiamo assistito fino ad oggi. Ed è assolutamente positivo il fatto, come ricordava lei il sottosegretario, che lunedì appunto sia stato convocato questo tavolo che vede il coinvolgimento anche dei parlamentari e dei deputati che si sono interessati al tema e che finalmente propone la volontà di fare un percorso condiviso. E questo sicuramente è un elemento positivo, che noi consideriamo positivo e che per la prima volta è stato avviato. Però è necessario in questa fase ricordare anche tutti gli errori che sono stati fatti nel passato. Intanto c'è stata la mancanza di una programmazione lungimirante e condivisa. Lei ha parlato della situazione di Milano. Anni fa si poteva mettere mano appunto al sistema fognario milanese. Si sarebbe potuto intervenire prima sulla depurazione delle acque. Ha parlato anche del raddoppio del canale scolmatore, che in realtà non è mai stato completato. C'è stata nel passato una mancanza di coinvolgimento anche degli enti locali rispetto all'ipotesi di costruzione delle vasche di laminazione sul territorio, perché è lo studio a cui lei ha fatto riferimento, uno studio di Regione Lombardia, che viene per la prima volta spiegato agli enti locali in queste riunioni di cui lei ha parlato, che sicuramente sono state positive, ma che risalgono a pochi mesi fa. E un'altra dinamica che dal nostro punto di vista non funziona e non ha funzionato è la contrapposizione e lo scontro tra centro e periferia. In questi anni si è avuto purtroppo una visione milanocentrica, che ha più volte, in più occasioni, portato la periferia a subire scelte prese dalla città di Milano. E non mi riferisco solamente appunto alle vasche di laminazione, ma in quest'anno e mezzo di attività parlamentare abbiamo avuto modo di porre all'attenzione del Governo anche il tema della Romonza, delle metotranvie, delle vie dell'acqua, il tema di Expo, che sicuramente è centrale anche per la scelta di costruire questa vasca di laminazione prioritariamente a Senago. Quindi, per concludere, sottosegretario, quello che noi intendiamo ribadire oggi in quest'Aula è che la creazione della città metropolitana possa aiutarci a superare questa visione milanocentrica, che finalmente gli enti locali che sono interessati da quest'opera possano intraprendere un percorso condiviso con il Governo, con Regione Lombardia e con il Comune di Milano. Ma ribadiamo la nostra assoluta contrarietà alla realizzazione di una vasca che sarà profonda a 14 metri, che dovrà contenere un milione di metri cubi d'acqua, in un terreno che, come è stato ricordato dal mio collega nella presentazione dell'interpellanza, è un terreno che il Comune di Senago ha in questi anni mantenuto agricolo proprio per preservare il territorio. Ecco, noi riteniamo che comuni virtuosi, che hanno una politica lungimirante, che preserva il territorio, non possano essere oggetto di interventi così devastanti, così impattanti e auspichiamo che da qui in avanti, a partire dall'incontro che ci sarà lunedì, si possa anche prevedere di rivedere il progetto. Grazie. Grazie a lei.